Pietro, iniziamo da te, sei il regista di questo film, sai la tua opera prima, come sta andando questa esperienza? Sta andando benissimo, abbiamo un cast che è fantastico, abbiamo Neri Marco Re, abbiamo Piero degli Esposti nel ruolo della mamma di Neri, poi abbiamo Cristina D'Alberto, Anna D'Alto, Antonio Pennarella e Stefano Pesce nel ruolo dell'antagonista di Neri. Tu sei anche lo sceneggiatore di questo film, cosa hai voluto raccontare? Allora, sono partito da una fascinazione data dal territorio e quindi una voglia di riscoprire anche un certo tipo di commedia, che è una commedia di genere, che è data sia dalla volontà di ritornare un po' alle origini, avendo come esempio grandi maestri come Pietro Germi, Mario Monicelli, e poi anche attingere alla cronaca, triste cronaca attuale, che si rifà un po' alla crisi, si rifà alla ricerca di valori che sembrano persi ma che poi in qualche modo vengono ritrovati e quindi c'è anche un discorso sulle radici del nostro territorio che devono comunque essere riscoperte e il personaggio di Neri farà questo. Neri, raccontaci chi è Gualtiero, il personaggio che intende ti? Io vado a caccia di radici nel film, lo scopo? Il personaggio di Gualtiero è un po' un cialtrone che non ha mai lavorato in vita sua perché è ricco di famiglia, ma quando la madre è piena degli esposti appunto gli chiude i rubinetti delle finanze, è costretto a inventarsi qualcosa e come tutti gli sprovveduti fa degli errori anche gravi, si affida a mani di gente poco raccomandabile, rischia di fare una brutta fine, salvo poi trovare un sistema per salvare anche la pelle perché rischia anche questo e attraverso questa crescita improvvisa legata a una necessità non a caso apre gli occhi e scopre anche di avere un figlio, ce l'ha sempre vicino ma fino a quel momento non l'ha mai considerato una risorsa importante per la sua vita e invece da verso finale del film comincia ad apprezzare suo figlio che poi forse è l'unico personaggio positivo del film, è una persona onesta che lavora, che crede che le cose si costruiscano piano piano e col sacrificio, mentre il resto del mondo, insomma, anche mia sorella è un personaggio positivo, quello di Elisa, è un po' insomma una serie di personaggi che hanno ognuno qualche problema, qualche deformazione. E questo film ti ha fatto scoprire qualche aspetto della cultura veneta che non conoscevi? No, questo film però mi ha fatto piacere farlo anche perché mi permetteva di stare un po' qua, che è una zona, insomma una regione nella quale mi piace molto stare, che conosco attraverso amici e quindi era anche l'occasione per starci un po' di più, in effetti sono molto contento, al di là di tutto quello che è intrinsecamente il film, di aver passato questo mese qui a Treviso e insomma ho avuto la conferma che è un posto bello nel quale si potrebbe vivere tranquillamente. Un'ultima domanda, hai imparato un qualche detto veneto? Qualcosa sapevo già prima, tipo a bocca non è stracca se non sa di vacca, tradotto? Che non si può terminare un pasto senza formaggio e poi ce n'è una che nel film che è donna che muove anca o è gatto, poco che manca e questo non c'è bisogno di traduzioni e poi quell'altro che mi hai detto tu che è latte e vin fa sangue fin e insomma... Col dialetto veneto come ti trovi ormai? No, sono un disastro, non ci riesco a parlare bene, non riesco veramente a me, devo sempre far insegnare un sacco di cose. Questa esperienza diciamo che mi sta facendo riscoprire le mie origini perché qui a Treviso ho riscoperto la bellezza del centro storico che spesso all'estero mancano queste bellezze architettoniche, poi l'enogastronomia e anche alcune attività culturali di spessore come le mostre a Cade Carraresi o le attività organizzate dalla Fondazione Benetton. Attualmente vivo a Londra, mentre negli ultimi anni ho viaggiato un po' per tutto il mondo, ho vissuto in Brasile, Argentina, in Spagna, in Francia e lavoravo appunto come reporter, documentarista e fotografa, per cui questo lavoro mi ha portato a girare spesso e ora invece sono tornata a Treviso dopo dieci anni ormai che mancavo e sto lavorando come assistente alla regia nel film Leoni. Ho fatto un documentario dove racconto insieme alla regista Anna Maria Gallone la storia straordinaria dell'avvocato Gracis, un avvocato di Conegliano che a 50 anni ha deciso di cambiare sesso e di diventare donna e adesso ha sposato la sua compagna perché non ha ancora fatto il cambio ufficiale all'anagrafe e con questo scamotaggio ha potuto quindi sposarsi. Si chiama Lei è mio marito e uscirà presto nelle sale. Sì, attualmente sto lavorando a un altro documentario che è stato tra l'altro paragonato a Sacro Grà, un paragone un po' azzardato al film che ha vinto il Leone d'Oro quest'anno. e racconto la storia delle persone che vivono lungo le acque di Londra, quindi sul Tamigi e su Regents Canal nelle houseboat e ho raccolto appunto storie molto interessanti di una decina di personaggi tutti diversi tra di loro, dal banker che lavora alla city e vive con il maggiordomo alla coppia di artisti che fa spettacoli acrobatici sul tetto della barca. Si chiama London & Float, Londra a galla e verrà terminato a fine anno. Buonasera dottoressa Bruscolini, ci racconti com'è nata questa iniziativa di questo film? Beh, l'iniziativa di questo film parte da un bando della Regione Veneto per un giovane autore che avesse da raccontare una storia interessante, nuova e adeguata diciamo alle aspettative del bando e ha vinto un ex allievo del Centro Sperimentale che ha studiato a Milano, Pietro Parolin e così da lì diciamo lo stesso Pietro ha chiesto di lavorare con la CSC Production che è la società di produzione del Centro Sperimentale di Cinematografia con cui lui aveva iniziato la sua carriera da studente. E come sta andando questo film? Bene, mi sembra che è stata... fino adesso abbiamo fatto delle riprese molto belle, molto particolari con un cast abbastanza d'eccezione per un'opera prima con Erie Marcorese, Stefano Pesce, Anno d'Alto, Ampiare degli Esposti e tanti altri che hanno avuto dei ruoli minori ma certamente non meno importanti. Per essere un'opera prima credo che possiamo essere tutti molto soddisfatti perché sta venendo... per quello che stiamo vedendo è un gran bel materiale. E la CSC Production è specializzata proprio nel produrre opere prime. È diverso produrre un'opera prima? Beh, direi proprio di sì perché hai a che fare con un regista esordiente e spesso anche con altre figure di esordienti perché noi cerchiamo anche di fare esordire non solo i registi ma anche direttori della fotografia, scenografi, costumisti. quindi ti trovi con una troupe giovane con poca esperienza che va seguita in un modo del tutto diverso da una troupe, da un cast artistico più grande che abbia già partecipato a più film. Però questa è la nostra sfida, fino adesso ne abbiamo fatto diversi film, tutti con un buon successo quindi siamo contenti di fare questa start up per i giovani. E conosceva Treviso? Le piace? Conoscevo Treviso, è una città molto bella, tra l'altro che ha accolto questo film con interesse e anche con grande pazienza e con cortesia e quindi ringraziamo questa città ringraziamo in generale il Veneto che questo film ha voluto e ha accolto. Bene, stai andando forte, prosegui, prosegui.